I Murazzi che vorrei che la tua dica cosa non lo stai? Intanto vorrei che i Murazzi vivessero un po' fuori dal sogno anni 90 di underground, ma anche di chi li vuole utilizzare e vederli solo come luogo di passione. Intanto arriva una mini-installazione che li renda agibili anche il giorno. Penso a un'idea dei Murazzi che li rendano veramente uno studio a cielo aperto per chi vuole passare il proprio tempo e avvenziarli anche però con la loro vocazione notturna che ha resi un posto incredibile in tutto il mondo, magari non vedendo più le produtture del 2000 con i campannoni fuori, ma rivedendo questi bellissimi mercati che sono un po' meno in trascita. E poi i Murazzi sono l'argine, l'argine a tante derive. Non credo che questa idea un po' strana di portare la mobiglia fuori dalla città abbia portato dei benefici. Io mi ricordo che è una celeriera di divertimento negli anni 90, cioè non scontare i ragazzi fuori dalle nostre città. Io sono felicissimo di aver inventato i Night Pass per due mesi di trasporto e credo che questi Murazzi abbiano il diritto di riprovarci, di rinascere, soprattutto per tutti quei giovani che avranno voglia di fare e di vivere.